Cosa posso spiegare? Posso parlare? Aspè, prima la sigla. Cosa posso spiegare? Abbiamo un paio vasta maschera. Perché mi hai riconosciuto? Manca un barattolo di Nutella si ruba. Che altro c'hai in tasca? Niente. Dai su. Poi? Che ci devi fare con la carota? Guarda che ci si è fatta queste petatine. Trovo fame, frate. Si è proprio un ladro. L'ho preso in pressione. Sì, sì. Abbiamo un problema in altro, però. Assaggio questa Nutella. Ma che è sto scrivo? È scaduta, frate. Da consumarsi preferibilmente entro il 10 marzo 2015. Quella che c'avevo io era buona, però. Questo vuol dire che l'infame non so io. Cioè? Che i barattoli di Nutella sono stati sostituiti. Mi padre. Io lupo. Per questo è un po' di euro di via. È un po' di euro di via. È un po' di euro di fenomeni, però. È un po' di euro di euro di euro. Grazie a tutti.